se hai acquistato un biglietto digitale regionale ricorda di fare il check-in prima dell'orario programmato di partenza di questo treno in caso di difficoltà, rivolgiti immediatamente al capotreno per rincorrere nella maggior azione prevista se hai acquistato un biglietto digitale regionale per favore controllo del periodo di partenza del treno seleccionato in caso di difficoltà, per favore consulta immediatamente il treno di treno per evitare l'incorso di un'attività addirittura per favore controllo del treno per favore controllo del treno per favore controllo del treno di rivelciamo un hot potente quindi trevi con il treno di partenza del treno nel taxi vi ricordiamo che a bordo dei primi è stato fumare e utilizzare dispositivi che generano calore o uguali sigarette elettroniche il mancato rispetto di questo divieto verrà finalmente perseguito oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative anche se gente ne è decennale pensate che i giovani del sanzioni grazie grazie Grazie. 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 Grazie.